vale grazie Ok. Ok. Corre, 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 corre. Ok. Atanazlo. Espera. ¿Dónde estás? Ahí estás. Te encontraré perro. ¡Frag! ¡Frag! ¡Aaah! Su Però bene, mira eso Has estado genial Bien hecho Quien te envia? Fue Kition o Heraclides? Pensaban que no iba a sobrevivir Pero les hemos dado una lección, verdad? Hemos? Que estás haciendo aquí fuera? Estas de broma, Aneb Buscamos la cámara perdida del gran Sneferu Fundador de la edad de oro del imperio antiguo Y que tal lo llevamos? Pero no te dijeron nada antes de enviarte en pos de mi? Ponme al día Según mis investigaciones Sneferu escondió tres artefactos en sus pirámides Uno en la de Maidun La primera y malograda Otro en la acodada Cuyo diseño modificó como era de esperar Tras el colapso de la primera Y otro en su última obra maestra y tumba La pirámide brillante Tengo un artefacto Pero esos bandidos me robaron otro Vas a tener que traerlo de vuelta Donde estaba? Acampan en los acantilados al oeste de Memphis Los encontrarás si sigues la corriente Además tendrás que encontrar la entrada de la pirámide brillante Para conseguir el artefacto Creo que hay una por arriba Pero es una subida importante En mis tiempos mozos habría podido Pero voy a mirar Cuantos bandidos dices que había? Me parece que todos Vale Sin drama Debería Oh questo deve essere il artefacto che i bandidosi robaron a Merckes che raro ok, ora facciamo la piramide ando vivo ora volo grazie a tutti 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 Soprattutto come a trovare la camera. Sospecho che si chiama a qualcosa di l'estero qui. Mi parecchio distinguire le ruini di un templo. Sìgueme, io so come arrivare. Non ti metti in lios ancora. Conti con il mio lato? Non ci. È quello che mi preoccupa. Come finisci per topare con i nostri banditi di prima. Solicite su aiuto per trovare i nostri artefatti perditi. Quindi, lo contrataste? Behlo, suo leader, afirmava conoscere il desierto meglio che a chi. Non pensava che mi fosene a traicionar. Non c'era che erano ese tipo di banditi. Non c'era nessun altro tipo di banditi. Todos saquean e matan per dinero. Sì, parecchano molto deciditi a le due cose. Primero robano i artefatti, e poi trattano di matare per il altro. Non c'era nessun tempo. Sì, parecchano molto. Sì, parecchano molto. Sì, parecchano molto. Sì, come la entrata sarà escondita. Sì, parecchano molto. Oh Va a sapere che troviamo un ultimo e morto l'obstaccio. Le ho detto che non c'era di che preoccuparsi. Vamo, per qui. Questo è... tu prima. Sì, tu lo dices. Un piramidion perfectamente conservato. Una reliquia divina. Esta sala se ha conservado perfectamente. Intacta desde el reinado de Sneferu. Questo è tutto? La maggiori sono pergaminos viejos. Non c'è nulla cosa. Que tesoro. Mira tutta questa storia. Kittion e Heraclides saranno assombrati. Serai famoso. Seremo famosi. Un placer aiutar. Quando abbia catalogato questo descubrimiento, lo llevaré a la biblioteca di Alejandria. Alli lo studiaranno e conservaranno per la posteriore. Seremo famosi. Seremo famosi. Ma questo anche chiama. Perfetto. 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 Grazie.